Siamo qua, Monderiori Channel, Chocolate Cour 2020, siamo qua con la crew, siamo pronti, siamo al punto di partenza, punto in Valtellina, edizione 2019, non 2020, intervistiamo un po' la gente, qua abbiamo DT, un grande personaggio, poi abbiamo il grande Made in Finland, Karina, poi abbiamo il signore Principe Exclusività, Nolinis, salutiamo, salutiamo, Stango X, e niente, adesso siamo, abbiamo qua anche un grandissimo lanciatore, lanciatore Gia Securo, terzo a livello regionale, e niente, faremo una recensione di tutti i cioccolati della giornata, a breve. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.